Asp personale in esubero, manifestazione dinanzi alla prefettura di Caltanissetta nella tarda mattinata. Rissa di San Domenico del 25 novembre scorso, Massimo Tortorici lascia il carcere malaspina, l'uomo è stato ammesso ai domiciliari. Ubriaco alla guida, rifiuta di sottoporsi all'alcol test, denunciato un uomo di 37 anni. Caltanissetta, concorso per 192 posti di dirigente medico. Sport, calcio, eccellenza. Nissa sconfitta dalla Mazzarese, biancoscudati in svantaggio dopo appena tre secondi. Bentrovati, azienda sanitaria provinciale, personale in esubero, manifestazione dinanzi alla prefettura di Caltanissetta nella tarda mattinata di oggi. A seguito di un'assemblea tenutasi presso la Camera del Lavoro della CGL di Caltanissetta, a cui hanno preso parte numerosi infermieri ed ossi in servizio presso l'ASP di Caltanissetta, si è concordato un sit-in presso la prefettura che si è tenuto stamani. Al sit-in e al contestuale stato di agitazione ha aderito anche la FSI USAE, che condivide insieme alla CGL la grande preoccupazione per il destino occupazionale di questi lavoratori e per la tenuta della sanità della nostra provincia. A noi non risulta che questi lavoratori sono in esubero, perché nei posti di lavoro c'è una grossa carenza di personale. Secondo noi c'è la possibilità di poterli portare tutti a 36 ore fino al 31 dicembre 2022. Per quanto ci riguarda, per noi tutti i lavoratori, Covid e come definisce l'amministrazione LEA, alcuna differenza sono tutti uguali, perché tra l'altro sono stati assunti tutti con la stessa procedura di click day e fanno parte tutti della stessa gradatoria. Abbiamo indetto su richiesta proprio dei lavoratori precari dell'ASP, questo sit-in davanti alla prefettura, per sensibilizzare le istituzioni rispetto alla loro situazione di precariato e di sicurezza del posto di lavoro. Si tratta di lavoratori che nel periodo della pandemia hanno garantito i servizi e l'assistenza a tutta la popolazione, che in questo momento vedono incerto il proprio futuro. Per questo motivo siamo qui a manifestare di fronte alle istituzioni. Nasce tutto dalla decursazione oraria che ci viene fatta. Noi apprendiamo il 29 di dicembre con esattezza che il personale osse e infermieristico hanno una decursazione oraria di cui gli osse passano a 28 ore e gli infermieri a 18 ore settimanali, questo fino al 28 febbraio. Poi subito dopo viene rettificata e ci veniamo portati a 28 ore settimanali, sia infermieri che osse. Perché oggi siamo qua? Siamo qua perché il 19 di gennaio veniamo a conoscenza che siamo personale in esubero. Quando effettivamente noi che siamo in reparto capiamo bene che l'esubero non sussiste perché si ha difficoltà a fare i turni, perché siamo costretti a fare straordinario, siamo sovraccaricati di lavoro, non riusciamo a coprire le ferie. Noi il 19 di gennaio siamo stati convocati per via brevi dall'amministrazione per parlare dell'organizzazione del lavoro sulla fattispecie delle 30 ore, delle 28 ore che stava facendo il personale di combarto. Questo personale di combarto viene dichiarato in esubero. La CGL si rifiuta a firmare questo accordo perché un esubero di questo personale ce lo deve spiegare l'amministrazione come che viene. Quando hanno fatto gli uffici e le assunzioni perché non si sono fermati al numero della dotazione organica? Ad oggi solo il 30% del personale, così per come è impostata la pianta organica, riuscirà ad avere la stabilizzazione. Noi abbiamo lavorato durante un momento di pandemia, abbiamo lavorato con il Covid e abbiamo avuto anche noi paura del Covid perché in quel momento si moriva. Abbiamo chiamato più volte la sede centrale dell'ASP di Caltanissetta ma non è stato possibile raccogliere una replica sulle problematiche evidenziate durante il sit-in. Rissa di San Domenico del novembre scorso, Massimo Tortorici lascia il carcere malaspina. L'uomo è stato ammesso ai domiciliari. Dopo circa 70 giorni di carcere non c'è più il rischio di reiterazione del reato. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari, Emanuela Carrabotta, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale di Massimo Tortorici, Giuseppe Panepinto. Così Tortorici lascerà il carcere e finirà gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'uomo è una delle cinque persone coinvolte nella rissa del 25 novembre scorsa a Caltanissetta, dove ha perso la vita il fratello Marcello. Secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza sarebbe stato Kevin Fiore con una coltellata a causare la morte di Marcello Tortorici. Intanto il 22 febbraio è stata fissata l'udienza di Massimo Tortorici per il patteggiamento della pena di due anni e sei mesi. L'accusa è di rissa e lesioni con l'aggravante dei futili motivi. La lite sarebbe scaturita da un apprezzamento non gradito alla fidanzata di Fiore da parte del figlio di Millaci e avrebbe coinvolto i componenti della famiglia Tortorici e quelli della famiglia Fiore, con il tragico epilogo della morte di Marcello Tortorici e del ferimento di Roberto Millaci. La sera della rissa tutti i protagonisti sono stati arrestati dai carabinieri e trasferiti in carcere. Kevin Fiore con l'accusa di omicidio premeditato. Gli altri quattro per il reato di rissa aggravata e lesioni. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in quattro agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato di Trapani, con il supporto della questura di Caltanissetta, ha dato esecuzione in ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di quattro persone accusate a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È stato inoltre disposto il controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un amministratore per la gestione. L'attività investigativa, iniziata nell'inverno scorso e supportata da sistemi di videoripresa a distanza e intercettazioni telefoniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a conclamate condizioni di sfruttamento dei lavoratori impiegati da una società con seda mussomeli in provincia di Caltanissetta nell'allestimento del nuovo punto vendita di Trapani. In particolare, la società gestita da due fratelli di origine nissena, utilizzando fraudolentamente lo sfruttamento della somministrazione di mano d'opera valendosi di un'azienda di intermediazione, ha fatto sottoscrivere ai dipendenti contratti di lavoro part-time, che prevedevano 24 ore settimanali articolate su sei giorni lavorativi, per poi impiegarle a tempo pieno e ben oltre lo stesso orario ordinario previsto anche per contratti full-time. I dipendenti erano costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio per 10-11 ore giornaliere, per una retribuzione di circa 500 euro mensili, pari a 1,85 euro per ciascuna ora lavorativa, senza vedere assicurato in molti casi neanche il riposo settimanale. Inoltre sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti di due dipendenti della società. A carico del primo, addetto alla selezione e gestione del personale, sono stati raccolti gravi indizi sulla sistemazione artefatta della documentazione amministrativa contabile del personale, a partire dal reclutamento, all'assunzione e alla predisposizione delle buste paga. Il secondo collaboratore, invece, è risultato essere l'esecutore materiale delle direttive impartite dai due datori di lavoro nelle fasi di avvio dell'attività commerciale a Trapani, assumendo atteggiamenti vessatori simili a quelli posti in essere dai titolari della società. Dalle investigazioni è emerso altresì che analoghi episodi di sfruttamento del lavoro da parte degli stessi indagati erano stati in precedenza commessi durante le fasi di apertura di un punto vendita a Castelvetrano, avvenuta nel 2018. Continua intanto l'attività investigativa del nucleo ispettorato del lavoro insieme all'Inps, per quantificare l'entità complessiva delle violazioni accertate ed i versamenti omessi. Ubriaco alla guida, rifiuta di sottoporsi all'alcol test, denunciato un uomo di 37 anni. La Polizia di Stato di Caltanissetta ha denunciato un pregiudicato di 37 anni perché trovato ubriaco alla guida si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Gli agenti della sezione volanti hanno intercettato un'auto con a bordo due persone che procedeva a zigzag creando pericolo per la circolazione stradale. Subito l'auto è stata fermata e i due uomini a bordo, gravati da precedenti giudiziari, sono stati identificati dagli agenti. Il 37enne, proprietario e conducente dell'auto che emanava un forte alito di vino con le pupille dilatate e farfugliava frasi scornesse, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. La macchina inoltre è stata sequestrata ai fini della confisca secondo quanto disposto dall'articolo 186 che disciplina il reato di guida sotto l'influenza di alcol. L'impegno degli agenti nei servizi di scorta. Nei giorni scorsi il ringraziamento del Procuratore Generale Facente Funzioni di Caltanissetta, Antonino Patti. Il Procuratore Generale Facente Funzioni, dottor Antonino Patti, riconoscendo il loro impegno lo scorso 28 gennaio nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2023 ha ringraziato i ragazzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che con professionalità, dedizione e a volte anche pazienza si dedicano all'attività di tutela dei magistrati sottoposti a misure di protezione. Questo quanto viene precisato nel posto della Questura Nissena che attraverso i social parla del corso frequentato dagli agenti di Polizia di Stato impegnati nei servizi di scorta. Gli stessi infatti, oltre alla preparazione tecnica di base, effettuano dopo aver superato dei test psicoattitudinali un addestramento supplementare. Specifico e selettivo che comincia con il corso di prima formazione di 5 settimane, si legge ancora, svolto al Centro di Addestramento e Istruzione della Polizia di Stato di Abbasanta in Sardegna, CAIP. Gli agenti infatti vengono chiamati a frequentare dei periodi di aggiornamento presso il centro dopo aver iniziato a svolgere l'attività operativa presso gli uffici per la sicurezza personale, istituiti in seno alle questure. L'agente di scorta, oltre alle normali attitudini, deve possedere equilibrio e capacità di gestione dello stress, si precisa ancora nel post. Dal punto di vista tecnico ha bisogno di intuito, capacità di osservazione degli scenari e capacità reattiva e di previsione. Nei servizi di tutela non esiste un momento di stand-by, anche quando la persona protetta si trova in un luogo sicuro. Un altro elemento decisivo per la buona riuscita del servizio di protezione e la collaborazione attiva dell'agente di scorta con la persona protetta. Concorso per titoli ed esami per la copertura di 192 posti di dirigente medico, varie discipline nel territorio provinciale. È tempo di rinnovamento per l'Asp di Caltanissetta. L'azienda sanitaria provinciale ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 192 posti vacanti di dirigente medico in diverse discipline, con assunzione a tempo indeterminato. L'avviso pubblico riguarda diverse discipline della medicina, dalla chirurgia generale alla dermatologia, dall'ortopedia alla psichiatria, ma anche cardiologia e oftalmologia. Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sull'albo dell'azienda e nel sito internet aziendale dell'Asp di Caltanissetta nella sezione bandi di concorso e avvisi. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il prossimo 19 febbraio 2023. Intanto il bando è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Sicilia numero 15 del 25 novembre 2022 e in versione integrale sul sito internet dell'Asp di Caltanissetta nella sezione bandi di concorsi e avvisi. Covid nel Nisseno, 34 positivi nell'ultima settimana, 10 nel capoluogo. Negli ultimi sette giorni riscontro di 34 pazienti positivi al Covid, tutti in isolamento domiciliare. 10 pazienti di Caltanissetta, 8 di Gela, 3 di San Cataldo, 2 di Butera, 2 di Mazzarino, 2 di Mussomeli, 2 di Niscemi, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Saumatino e 1 di Sutera. Ricoverati in decenza ordinaria 3 pazienti di Caltanissetta, 3 di Gela, 1 di Mazzarino, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla decenza ordinaria 7 pazienti di Caltanissetta, 1 di Niscemi, 1 di Santa Caterina e 1 di Villa Armosa, 1 di Mussomeli, 1 di Butera e 2 provenienti da fuori provincia. Deceduto un paziente di Niscemi positivo al Covid. I guariti sono 70 di San Cataldo, 49 di Gela, 42 di Caltanissetta, 24 di Niscemi, 20 di Serra di Falco, 10 di Riesi, 9 di Butera, 8 di Mussomeli, 7 di Mazzarino, 7 di Resuttano, 6 di Milena, 6 di Vallelunga Pratameno, 5 di Montedoro, 4 di Delia, 4 di Sutera, 3 di Sommatino, 1 di Marianopoli, 1 di Santa Caterina-Villarmosa e 1 di Villalba. Sport, calcio, serie D, Castrovilla-Ricorsaro a San Cataldo. I Calabri ribaltano il risultato contro i Verde Amaranto dall'1-0 all'1-2. Si ferma il cammino virtuoso della San Cataldese dopo le due vittorie consecutive precedenti. L'11 siciliano si è arreso in casa dopo la rete del vantaggio nel primo tempo che aveva illuso i tifosi Verde Amaranto. Il Castrovillari, nella ripresa, è riuscito a rimettere in parità il risultato e poi ha ottenuto la preziosa e inattesa vittoria nei minuti finali di recupero. Così la squadra calabrese ha espugnato il salotto di San Cataldo con il risultato di 1-2, ottenendo tre punti fondamentali per la salvezza. Per la San Cataldese invece una sconfitta sorprendente, soprattutto dopo il primo tempo concluso avanti di una rete. Questi i risultati della ventitresima giornata del girone I di serie D. Catania-Mariglianese 2-1, Santa Maria-Cilento-Lamezia-Terme 3-2, Realla-Versa-Acireale 1-0, San Luca-Città di Sant'Agata 0-2, Vibonese-Locri 0-2, Trapani-Canicatì 3-0, Licata-Paternò 2-1, Raguse-Cittanovese 1-0, San Cataldese-Castrovillari 1-2. Per una classifica che continua a raccontare la marcia trionfale del Catania a 60 punti, L'Ocri 46, Città di Sant'Agata 42, Lamezia-Terme 39, Licata 38, Trapani 35, Vibonese 34, Canicatì 32, San Cataldese e Santa Maria-Cilento a 31 punti, Castrovillari-Ragusa 26, San Luca-Realla-Versa 24, Acireale 23, Cittanovese 21, Paternò 18, chiude la mariglianese a 14 punti. Eccellenza Nissa sconfitta dalla Mazzarese e Biancoscudati in svantaggio dopo appena tre secondi. Bastano tre secondi alla Mazzarese per passare in vantaggio nel match contro la Nissa allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Dopo il fischio d'inizio, direttamente da centrocampo, il capitano Gino Giardina trova il gol, uno dei più veloci della storia del calcio, sorprendendo il portiere biancoscudato. Sull'1-0 la Mazzarese non si ferma e punta al raddoppio, che arriva al nono con Perrone. Sotto di due gol diventa tutto più difficile per la Nissa, che accorcia le distanze solo nel finale, con Dibbiase. Per i Nisseni la decima sconfitta della stagione, la quarta nelle ultime cinque partite. I risultati della ventunesima giornata. Cus Palermo-Resuttana 1-0 Castellammare-Mazzara 0-0 Parmonval-Oratorio-Marineo 0-1 Acragas-Sciacca 1-0 Gela-Leonfortese 1-0 Profavara-Casteldaccia 2-0 Mazzarese-Nissa 2-1 Enna-Don Carlo-Misilmeri mercoledì alle ore 15. La classifica Acragas-49 Enna-48 Profavara-45 Don Carlo-40 Mazzarese-Mazzara-35 Sciacca-34 Casteldaccia-28 Oratorio-Marineo-E-Nissa-25 Leonfortese-23 Castellammare-18 Resuttana-17 Gela-16 Cus Palermo-14 Parmonval-8 Basket inarrestabile all'Invicta di Caltanissetta I ragazzi guidati da Giuseppe Spena vincono anche a Capodorlando Non si arresta la corsa a senso unico dell'Invicta che per 71-75 supera la Capobasket sul proprio parquet casalingo di Capodorlando raggiungendo l'undicesimo risultato utile consecutivo e si appresta ad abbracciare il suo pubblico domenica prossima al Palacanizzaro nell'ultima giornata prima dell'inizio del play-off La stagione dei record dei cestisti nisseni non sembra avere passi falsi e la vittoria di misura raggiunta a Capodorlando dimostra la forza e la solidità dei ragazzi del coach Giuseppe Spena oramai pronti a play-off di fine stagione Basket Serie D Girone B Tredicesima giornata Capobasket invicta 71-75 Zannella Cefalù Basket Messina non disputata Sant'Agata Virtus Trapani 64-57 Riposa Leonardo Da Vinci La classifica Invicta 22 Capobasket Zannella Cefalù 14 Sant'Agata 12 Leonardo Da Vinci 6 Virtus Trapani 4 Basket Messina 2 Volley L'Alba Verde torna alla vittoria dinanzi al pubblico amico L'Alba Verde ritrova il sorriso ma soprattutto la vittoria battendola a Brico City Dopo la sconfitta di Reggio Calabria bisognava riprendere il feeling con la vittoria e la confortevole atmosfera del Palacanizzaro ha contribuito a creare le condizioni per ritrovare il sorriso dopo settimane sportivamente difficili La gara è stata una buona occasione per testare tutto il gruppo squadra e contestualmente verificare le condizioni tecnico-fisiche delle singole giocatrici La gara non è mai stata in discussione e il 3-0 finale sorride alle pallavoliste nissene che possono riprendere nella loro marcia con l'obiettivo stagionale di centrare il playoff Volley serie B2 girone M quindicesima giornata Pallavolo Crotone Zafferana 3-1 Gioiosa Ardenz Comiso 3-1 Cus Catania Procori e Ricina 0-3 Fidelis Torretta Planet 3-0 Stefanese Saracena 1-3 Alba Verde Brico City 3-0 Funivia Etna Volley Region 1-3 La classifica Zafferana 38 Pallavolo Crotone 35 Alba Verde 34 Procori e Ricina 33 Fidelis Torretta 31 Gioiosa 30 Cus Catania 25 Saracena 22 Volley Region 21 Funivia Etna 18 Brico City 12 Ardenz Comiso e Stefanese 6 Chiude la Planet a 4 L'importante è che noi abbiamo preso questi tre punti Abbiamo soprattutto giocato bene, tranquille e rilassate Hanno giocato così sia le ragazze titolari che le ragazze che sono entrate dalla panchina Non pensiamo né a Zafferana né a Crotone ma pensiamo noi stesse che è la cosa migliore in questo momento Quindi stringerci tra la squadra, lavorare tanto e i risultati verranno, ne sono certa L'obiettivo rimane sempre sicuramente il playoff senza dubbio e continuare a migliorarci come faremo, ne sono certa Una bella prestazione, avevamo decisamente bisogno di una vittoria, una prova convincente Un avversario tutto sommato ostico che è riuscito in alcuni tratti a impegnarci Poi siamo riusciti anche a utilizzare abbondantemente quasi tutto il roster, siamo contenti Ora chiaramente dopo qualche passo falso è chiaro che raggiungere il primo posto sarà veramente difficile Non ci recludiamo nulla, però è chiaro che è complicata In questo punto pensiamo partita dopo partita, fine campionato vediamo dove arriviamo La nostra stagione prosegue con una sfida importante in chiaro salvezza in un derby catanese contro il Cus Speriamo di fare bene, oggi era una partita che sapevamo che era un po' fuori dalla nostra portata Ho chiesto alle ragazze di giocare e pensando un pallone alla volta perché non è facile contro una corazzata che ha altre ambizioni rispetto alle nostre fare bene o stare attaccati a loro Siamo riusciti parzialmente per cui cerchiamo nella nostra condizione di vedere il bicchiere mezzo pieno In questo momento vedo un attimino più avvantaggiato Zafferana che ha anche fatto dei rinforzi ancora ulteriori importanti in chiave promozione Ma in ogni caso una traina che gioca in questa maniera e che adesso aspetta il risultato appunto di Zafferana Clotone resta lì sul pezzo e il campionato ancora è lungo, può succedere di tutto E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità, grazie per l'attenzione Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì Guardate questa bella appiazzata vicino a Italia, alta pressione su buona parte dell'Europa centrale Anche verso l'Italia e il Mediterraneo, le perturbazioni atlantiche non riescono a sfondare questo muro Insomma per diversi giorni di perturbazioni sull'Italia non se ne parla Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità Guardate, difficile trovare una nuvola questo martedì giusto nelle estreme regioni meridionali Qualche locale annuvolamento Di conseguenza precipitazioni, guardiamo pure sta mappa ma la guardiamo per niente Perché effettivamente da noi non cadrà una goccia d'acqua, ci sono anche le nuvole come potrebbe Quindi alla fine ci attende un martedì di sole Da nord a sud è una situazione anche preoccupante però Perché ci sono zone dell'Italia, specie in nord e l'alto tirreno Che non vedono piogge significative da settimane E ancora per 7-10 giorni non vedremo una goccia Quindi speriamo in un cambiamento a fine mese come potrebbe in effetti arrivare Per il resto ripeto, tanto sole, temperature diurne in aumento fino a 15-16 gradi E salgono un pochino anche i valori notturni Per sapere fino a quando andremo avanti così consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pasqualino Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara Servizio notturno Buonasera, via Edmondo de Amicis Grazie a tutti